E' Reptile! Forse con lui troveremo anche la tua ragazza. Kitana non è la mia ragazza. Potrebbe aiutarci, ricordi? Allora cosa facciamo? Seguiamo le istruzioni di Raiden. Se sconfiggiamo Reptile, Shantung sarà molto più debole. No, mi occuperò io di Reptile. Tu resterai a guardare. E' questo ciò che Raiden voleva dire. No, mi occuperò io. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 hai acquisito l'abilità di scalare i muri. sfruttala per sfuggire dal covo di reptile. a tutti. a tutti. a tutti. Avete ucciso Reptile. Eccellente. Perché maestro? Non capisco. State alimentando le tombe delle anime. solo così potremmo farcela. E questo servirebbe a salvare l'Earth Ram? Credevo che fossi qui per fermare Shang Tsung. Io... Sì, maestro Raiden. Qualcosa non mi convince. Lo so, ma sono sicuro che a tempo debito Raiden ci spiegherà tutto. Lo so, ma sono sicuro. 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 Lo so. Lo so, ma sono sicuro. Lo so, ma sono sicuro. Lo so, ma sono sicuro. Grazie a tutti. Questa è iniziata. La città città è un po' di costi. Questa è un po' di costi. Un po' di costi. E il come è un po' di costi. Maestro Raiden, Liu Kang, temo che Kung Lao possa costituire un problema per il prossimo torneo. Il suo unico desiderio è quello di onorare i suoi antenati. Maestro Raiden, il luogo è questo. Spiriti maligni cercano un'anima di cui impossessarsi. Tu sei il campione di Mortal Kombat. Devi sempre ricordarti chi sei se vuoi davvero sconfiggere Shang Tsung. Il suo potere è originato dalle tombe delle anime, per questo devi distruggerle. Sei l'unico di cui possa fidarmi. Sei il campione di Mortal Kombat. Solo tu sei abbastanza forte da non lasciarti corrompere da questo scuro reame. Sì, maestro Raiden. 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 non va me lo sentivo segui il tuo istinto kung lao affidati all'intuito i tuoi antenati sapranno guidarti le tombe delle anime sono la fonte del potere di shang tsung non 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 senza Grazie a tutti!